in questo momento storico c'è una sensibilità crescente riguardo all'attacco a terra dell'edilizia in legno una sensibilità che si registra sia dal fronte del tecnico progettista sia dal fronte del costruttore edile. Perché questa cosa? Perché negli ultimi anni le scelte tecnico progettuali sfortunate piuttosto che cattiva esecuzione in cantiere hanno portato poi a delle spiacevoli situazioni che rappresentano poi dei problemi per l'edificio. Il primo tra questi è una compromissione anche dell'aspetto statico. Ricordiamoci che la nostra struttura in legno poggia sulla fondazione e la tappa a terra ne rappresenta il punto di collegamento e di connessione. Il legno è un materiale bellissimo, è un materiale che se si bagna e si asciuga non c'è nessun problema. Ovviamente noi dobbiamo realizzare questa connessione con la platea, con la fondazione, in modo da proteggere il legno dall'acqua e fare in modo che eventualmente si possa asciugare. Un'acqua che viene da più punti, un'acqua che viene banalmente dall'esterno perché c'è il dilavamento in parete, c'è lo scorrimento sulla marciativa ed esterno, ma c'è anche l'acqua che viene dall'interno, forse un po' sottovalutata. Pensiamo banalmente al tubo dell'allamatrice che si rompe, l'allagamento all'interno, l'acqua si infila sotto un battiscopo e se noi abbiamo condizioni di trappola per cui il legno non riesce ad asciugare possiamo avere un problema. La connessione alla platea chiaramente, poi la platea è a contatto con il terreno e qui c'è ovviamente il problema dell'umidità di risalita, quindi dobbiamo proteggerci dall'umidità di risalita, ma abbiamo anche una forma di umidità un po' più suddola che spesso è difficile da comprendere ed è quella che è disciolta naturalmente nell'aria sotto il nome di umidità per la quale noi poi vivendo negli edifici in legno contribuiamo all'emissione in ambiente e attraverso quel fenomeno per cui scaldando l'edificio d'inverno l'aria calda spinge sulle strutture e tende a scappare verso l'esterno, noto sotto il concetto di tenuta all'aria, va a trovare anche nel nodo di connessione a terra un punto, una via di fuga per cui può rappresentare poi una problematica di condensazione interstituziale. Infine c'è un aspetto legato all'interpistica perché l'attacco, la parte di platea è tipicamente la zona dove corrono tutti gli impianti e l'ingresso e l'uscita di una serie di servizi pensiamo alle tombazioni tra quelle idrauliche e il punto dopo da cui noi risaliamo per portarci quello che è il punto luce, la presa di corrente, l'attacco del nostro rubinetto del lavabo. Il mercato ovviamente a questa cosa sta già rispondendo, oggi la tendenza è quella di sollevare concettualmente la parete in legno dalla fondazione con l'adozione di un muretto o un cordoletto in calcestruzzo oppure l'adozione di profili che creano una base di appoggio di partenza in legno, il famoso trave in legno di larice che fa dalla liscia piuttosto che è il sistema che proponiamo come soluzione per l'attacco a terra si basa su un elemento, una serie di elementi, un elemento in particolare che è un cassero in EPS e l'EPS ha già una una funzione anche specifica per cui ci dà un elemento anche di coibentazione e quindi introduce anche questo concetto di correzione della ponte termico che si crea quando io realizzo una cordonatura di elevazione per la mia parete in legno, un elemento che poi è dotato di una serie di elementi che consentono la registrazione per livellare la quota dal punto di vista altimetrico e quindi proporci una soluzione di appoggio perfettamente planare andando a confessare e a correggere le irregolarità che tipicamente si trovano partendo dalla platea perché ahimè l'edilizia in legno lavora con una precisione del millimetro, l'edilizia tradizionale spesso ha delle tolleranze leggermente differenti. L'obiettivo è quello di portare la nostra parete di sopra o almeno una quota paritetica a quello che è lo scorrimento delle acque anche sul piano interno, quindi una quota pari o superiore al pavimento interno finito, tipicamente un range che possiamo identificare tra i 25 e i 30 centimetri. Un sistema che prevede poi una preinstallazione di tutte le connessioni di attacco, di aggancio, le famose piastre che rispondono poi agli sforzi di taglio e di trazione che vengono direttamente preinseriti nel cassero, vengono confinati con ferri tradizionali di armatura andando poi a rimandare gli sforzi direttamente sulla platea e vengono annegati direttamente all'interno del nostro cordolo di calcio. Un sistema che è studiato e pensato secondo, questo magari è un aspetto più da ingegneri e da strutturisti, per rispettare quella che è la logica della gerarchia delle resistenze, lavora con il concetto della cosiddetta rottura duttile o dissipazione dell'energia e porterà poi a una serie di vantaggi sia al progettista strutturista sia al costruttore edile. Un sistema che dà poi a chi lo adotta una soluzione a una risporta anche dal punto di vista termo-igrometrico, è stato fatto uno studio specifico e un'analisi elementi finiti per quanto riguarda quello che può essere la temperatura limite per non avere problemi di condensazione nel punto più critico e cioè l'attacco ai piedi all'interno dell'edificio in modo da allontanare, da fugare dubbi di informazioni di condensazione in quel punto e attraverso una certificazione fatta con l'istituto Fraunhofer ci dà anche una garanzia del fatto che questo sistema ci tuteli dal risucchio o dalla risalita diciamo così di umilità anche in una condizione di platea completamente satura di acqua, una condizione che è similata a un allegamento anche temporaneo. Un sistema che poi alla fine grazie a delle traverse che sono ogni 40 cm consente una distribuzione ottimale degli impianti rendendo più azievole poi quello che è tutto l'alleggerito, il materiale alleggerito che va a compensare evitando tutta una serie di sovrapposizioni che sono tipiche del mondo degli impianti. Radixol che consente al costruttore di indirizzo in legno un notevole vantaggio nell'adozione in termini di tempo. Dobbiamo capire che in un solo passaggio va a realizzare direttamente un cordolo di elevazione in elevazione che gli porta la parete fuori dai rischi che abbiamo visto in precedenza, gli consente di andare a gestire tutte quelle irregolarità tipiche nella gestione del sistema di edilizia tradizionale dal punto di vista antimetrico, riesce a lavorare con la stessa precisione con cui è abituato, quindi con la precisione del millimetro andando a fare un unico tracciamento direttamente sulla platea perché in questo modo diciamo si evita una fase che spesso alcuni costruttori lamentano e cioè che aspettano che tutta la platea e tutto il muretto in elevazione sia fatto e realizzato per andare poi a fare un nuovo rilievo in cantiere e per poi andare in produzione con quanto riguarda le pareti in legno. In questo modo il costruttore salta questo passaggio, può procedere direttamente alla realizzazione della parete perché tanto poi il suo schema e il suo tracciamento sarà lo stesso con cui posiziona il nostro sistema Radixol. È un sistema che consente di dare una garanzia dal punto di vista termo-igrometrico, abbiamo visto gli studi fatti da TVZ e dall'istuto front-offer che tupelano quel punto dal punto di vista per il punto idrometrico e un sistema che grazie al fatto che è stato studiato per quanto riguarda le gerarchie delle resistenze consente anche una ottimizzazione con le connessioni legno-calcestruzzo e anche portando spesso volentieri ha una significativa riduzione del numero di queste connessioni che può arrivare anche all'ordine del 50% di riduzione. E questo si introduce poi ovviamente in un enorme risparmio anche di tempo e anche di costo. Ringrazio Arca per la possibilità e per darsi l'opportunità di far conoscere questo sistema al mondo sia dei progettisti sia dei costi in legno. Da proposito ricordo che tutto il nostro staff tecnico a partire dal sottoscritto è a disposizione ovviamente per qualsiasi informazione e tutta la rete dei nostri consulenti tecnici diffusi in tutto il territorio natalmale sono ovviamente anche loro a disposizione per qualsiasi rincarimento.